Bella a tutti i miei scheletri, siamo qua in un nuovo video dove siamo in singolo questa volta per andare a fare una vittoria reale, vediamo come va allora, ho visto un caccia, 150 di pietra, va bene allora, so che lascio in un eldrop, andiamo a prenderlo subito eccolo là andiamo delle taglie, purtroppo non c'è nessuno, però, vabbè, quando succederà safe, cercherò di andare invece c'è qualcuno lo posto è legnato, perfetto era easy ok raga ottimo ottimo, ottimo, ottimo andiamo ad aperci il nostro eldro quello che ho fatto da me non ci aveva capito niente, buono ora lascio la pistolina perché non ho ancora trovato un assalto ora lascio la scuola, quindi vabbè, la vado a ripendere gli altri mo' vediamo siamo in 27 vediamo come viene sta partita un bel bar che io amo che poi c'è questo, queste foglie qua, vabbè ok qua ti facciamo del materiale che è importante altro eldro, vabbè, lontanissimo ok questo è un po' di munizioni oh raga, niente a soldo vabbè, sono praticamente ancora in safe comunque io so che quello là non ci aveva capito proprio di niente pensavo che non l'avessi visto però vabbè ok c'è una cassa niente vabbè ah raga, non si può stare senza soldi in una partita siamo in 16 ancora non ho un assalto quindi, ecco eh vabbè oh niente qua dentro c'è no, bene, niente, però c'è una cassa di munizioni vai raga, però una ciscina raga, mi raccomando andiamo a vedere anche gli altri video ok, cazzo ok, ecco 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 è sempre un salto dai ho detto la grama o però ti dà bella buona roba? vediamo qua ok magari ci dice più fortuna niente niente ok la caccia la caccia il barret bella la drappola c'è una buona ok ok ah la caccia di bambi che ci vediamo che ci vediamo ok 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 è un R blu si è proprio un R blu almeno raga quello è so good c'è un tipo non va bene ok non c'ho visto che cosa c'è un po' c'è un po' ok c'è un tipo con il codo raga ma che cazzo sta facendo c'è un po' c'è un po' c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' un po' perché sta distruggendo tutto il grano Che male ragazzi che gli ho fatto Boom raga Siamo in 9 va bene Questo qua lo mettiamo così Se ne fa un casino tremendo Allora uno dovrebbe essere su sta montagna Però se l'ho andato via Sicuramente perché è bella si Ok tutto caricato 7 scudini Va benissimo Vediamo come va 2 kill Non sono tantissime Speriamo di fare altri kill nel finale La c'è una C'è un bel fight Uno è Purtroppo è caduto Ok l'altro si è buttato apposta Allora Allora Vediamo un attimo Oddio raga che pelo l'ho fatto Vediamo un attimo Allora Molto buona Anzi è proprio da merda Boom raga Questa è la bella Questa cerchina era fantastica Raga buono Buono così raga Qua dobbiamo fare il giro Siamo rimasti in quattro Siamo rimasti in quattro Proprio a casa quei due Se avessi modo di lootarli Li looterei anche molto volentieri C'è un tipo là che è anche un vantaggio No raga non posso prenderlo Raga Credibile raga Alla prossima Sì Sì aia questo qua è un gran camperone non so neanche dov'è no ah raga vedi e allora che me ne vedo qui sopra oddio raga no raga che bastardo che bastardone raga no raga sì ma raga dove sono gli altri solo noi ci siamo qua sopra non ci sono no raga ok questa che cambia l'altra 100 da fa questo che cambia l'altra no raga no no raga no raga no materiali raga che sfiga guarda sti due camperoni raga questa qua ve la metto perché raga una cosa incredibile per farvi vedere quanto la gente può essere camperone anzi me la guardo ve la faccio anche vedere anche come finisce raga 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 vediamo guarda spero che vinca sto qua che sto guardando perché l'altro era proprio uno di questi camperoni non sapevano proprio giocare non sapevano proprio giocare se non fosse stato per i materiali sopravvivele guarda ah raga è morto ormai sta diventando odioso sta secolo è morto raga non c'è niente da fare guarda con quattro di vita raga e vabbè bella raga